ciao barbie family e bentornati in un nuovo video papà luca dietro mi sta prendendo in giro e non va bene comunque visto che siamo in un momento un po critico è bisogna rimanere a casa state a casa così si deve maledetto virus se ne va alle cozze e ciao ciao coronavirus quindi in un gruppo su facebook ho letto cosa posso fare far fare i miei figli a casa oltre a fare beh i compiti fare qualche lavoretto e mi è venuto in mente una bella cosa se bisogna avere vabbè con l'aiuto dei genitori perché utilizziamo la colla caldo no mi fate aiutare i genitori con genitori e figli fare i ditini praticamente questi così qua ciao ciao io sono i propri oggetti con io ho usato magliette si possono usare tutto quello che si vuole cioè la stoffa io le magliette che non gli vanno più a lei io le utilizzo per i lavoretti far vestitini di barbie e adesso lo utilizzeremo per fare queste cose qua e ci serve il cartoncino e stoffa colla caldo e poi tanta intenzione tanta quindi io direi di proseguire a fare il ditino potete fare diversi 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 sono carini e poi andremo a ricreare il teatrino perché loro dove si devono esibire in un piccolo teatrino diciamo no così noi genitori loro fanno il loro show e noi genitori li stiamo a guardare senza fare niente ecco saranno il nostro netflix bene allora io bando alle ciancue e andiamo a a fare oggi ha fatto una faccina andiamo a fare il dipino qua c'è tutto il banchetto prendiamo un pezzettino di cartone no e andiamo a tirare una strisciolina di un due centimetri dopodiché ora alzo prendiamo il ditino sì due centimetri insomma poi vedete le dite dei vostri bambini ecco meno male deve un po' deve essere vedete vedete deve avere mezzo dito top più o meno no andiamo a rotolare bene il cartoncino non deve essere tanto spesso perché sennò darebbe fastidio dammi qui ma mano allora prendete la misura del dito del vostro bimbo che deve entrare uscire normalmente quindi dovete stare un po' più larghi deve entrare uscire bimbo barra a bimbo barra a poi con la colla a caldo lo andiamo a chiudere forse è venuto un po' più grande però un po' più largo un po' più largo va bene poi come volete voi volete farlo ora prendiamo la stoffa quella chiave grigia la vuoi e andiamo a tagliarne un piatto il nostro pezzo di stoffa ovvio non ci servirà tutto dopo andremo a allora andiamo a incollare lasciando un po' di bordo sotto perché dopo andremo a girarlo così allora andiamo a incollare giriamo tutto mettiamo un altro goccino di colla giusto qua per tenerlo fermo ok e poi a fine qua un goccio di colla e lo andiamo a chiudere ok dopodiché andiamo a tagliare l'eccesso così ora andiamo a mettere la colla tutto attorno qua così e andiamo a velocemente a chiuderlo dentro così risulta comunque un po' più piccolino no si è stretto il cerchio l'abbiamo fatto largo vedete dammi il pollice e adesso è perfetto è caldo perché non brucia però ora andiamo a incollare le due estremità facendo attenzione perché ok o così andiamo a prendere misura il pollice arriva qua no e andiamo a misurare un po' più in su perché poi andremo con un pezzettino di stoffa adesso io non posso perché questo qua insomma prendo un pezzettino di questa qua ad esempio o un elastichino insomma quello che volete voi un attimo non è questo oggetto per il comico un attimo anzi no questo oggetto è per questo e andiamo a legarlo ora andiamo a sistemare lo prendiamo in mano noi andiamo a rigonfiarlo un pochettino perché vabbè facciamo il doppio nodo un attimo alessia una cosa alla volta spieghiamo se no non si capisce ora su questo volevo creare un cappellino allora alessia mi serve la tua mano prendiamo il cartone mi serve la mano tocca no devi colorare tu se no perché lavoretto insieme se fai solo occhietti e oggettini perché lei sta facendo occhietti e oggettini poi vi facciamo vedere un altro pezzo di cartone e andiamo a disegnare un cerchio diciamo no vedete sì un cerchio grandezza che volete vedete ok poi andiamo a fare un all'interno un altro cerchio perché deve essere il cappello a cilindro e andiamo a ritagliarlo anche il buco all'interno occhio 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 sono molto facili come vedete da fare molto semplici molto diciamo veloci tanto di tempo ne abbiamo no? dobbiamo stare in casa quindi vedete ora andiamo a prendere un altro pezzo di cartone cartoncino e fare il incollarlo tutto attorno andiamo a rotolarlo un po vedete vediamo la misura questa questa e andiamo a incollarlo ecco è questa è in cose ecco è questo vediamo occhio tutto perfetto Perfetto Se c'è qualche eccesso Taglia via, fa niente Vedete come vengono poi Poi Alessia ci ha fatto il gelatino in questo Poi c'è questo che devo ancora fare Il oggettino E c'è anche questo Col cilindro che avete fatto del cappello Prendete un altro cartone Ovviamente qui saranno tutti uguali Aspetta Alessia Andate a fare La circonferenza del cappello Ok? Non è che si vede tanto Circonferenza Mi serve un pezzo per fare gli occhi Ok E andiamo a incollarla Sopra Presse intanto Ha fatto gli occhi Sempre con la bocca E gli occhi Ok Allora Fatto il cilindro Andiamo a incollarlo qua Vedete? Cappellino Colla caldo Tutto attorno E andiamo a incollare il nostro cappello Ok Ora Alessia Lo colorerà del tutto Intanto Ritagliamo gli occhi Alessia sta tagliando La bocca La bocca E' piccola un po' Perché Il comico Deve essere il comico Vuole fare il comico E poi I oggettini Come volete voi Ecco La coloro di verde Di verde Ok Tutto bene colorato di verde E Tagliato gli occhi Andiamo a mettere il dito dentro E a incollare sugli occhi Un po' di colla E Via La bocca Mamma La voce La puoi fare te questi Questo La voce tipo Così La riesce a fare Ok Però Come stai Io sto bene Io me lo vado a dire Devi fare quella Tutte le parole Che iniziano con la F E che finiscono con la F Ciao Fuffi 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 Non bella così Dai Fai Fuffi Fuffi Si ha colorato il suo cappello Col buco all'interno Andiamo a Mettere La colla No perché devi togliere le parole Devi togliere le parole No 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 Se no lo si perde Poi se volete All'interno Andiamo a inserire il nostro cappello Il nostro Ecco qua Ciao Io vado Andiamo preparando per andare alla scena Siamo pronti Queno si No ci manca il parco Il parco Il piattrino Bene Intanto ho preparato un altro Che questo andremo a fare il ciuffo Per fare il ciuffo Stessa cosa di quelli E si fanno tante frangettine Tante striscioline Frangettine Come le volete chiamare voi Così Ale Ok Gire 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 Intercambiabili Insomma Ok Poi con un'altra striscettina Andiamo a chiudere Fare il nodino Andiamo a fare il nodino Doppio nodo Come prima E andiamo a tagliare l'eccesso Ma non puoi fare un po' più qui no? Così si vede di più Ti guarda te Ok Ora Ti fai fatto gli occhi? Ah quello è piccolo Sì Ho fatto gli occhietti Ora andiamo a incollare La boccuccia la devi mettere vicino ai occhietti perché è piccola Voi con la fondi Incolliamo i nostri occhietti La boccuccia è detto vicino 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 Dai lo vuole vicino vicino Con un bastoncino degli spiedini Alessia l'ha tagliato un pezzettino Ha fatto una bandiera italiana Vedete E basta incollarla qua Così Voi potete fare quello che volete Ok Vuole mettere a lei e si incolla Un po' di colla caldo Riccettina E andiamo a incollarci La bandiera Potete fare qualsiasi cosa voi volete Ecco Di accessorio Potete lasciarli Normali Semplici Ok Ora prendiamo un cartone C'è un po' di colla caldo C'è un po' di colla caldo C'è un po' di colla caldo No Lo apriamo e tagliamo solo una parte Per fare il piattino Per fare il piattino Verrà così Ora andiamo a Andiamo a girare a controllare così Andiamo a fare una finestrella Ora la vado a diseguire Fatta la finestrella Con il taglierino Andiamo o con la forbice O con il taglierino Piano piano Ovviamente con il taglierino Non potete farvi le vittorie dei genitori Come io sto facendo con il mio mamma Andiamo a Tagliare Se non avete il taglierino Potete usare la forbicina Tutto Dovete tagliarlo Tutto il Ok Guardate Ora Salve Il pezzo Che abbiamo ritagliato Lo vado a Incollare Sotto Così è più È più È più Resistente Ok Ora Andiamo a Incollare No Queste parti qua insieme Uno Due Potete farlo Che sia Così Quadrato Un po' più Aperto Un po' più aperto Andiamo con la colla caldo Uniamo Uniamo Un po' più aperto E andiamo a Incollarli Insieme Così anche per le altre parti Allora Ecco qua Ora se volete Potete sia lasciarlo così Oppure prendere dei semplici fogli bianco Con la colla stick Che io non ho Andiamo a Andiamo a Incollarli Così Farò tutto così Voilà Ecco qui La pendina Dobbiamo fare Un attimo Adesso Qua potete Disegnarlo Come volete Questo è il pezzo sopra Come volete Potete disegnarlo Alessia ha fatto Lei già Anche un disegno Un unicorno E vado E ho fatti molti altri E poi In un video Vi faremo vedere Andiamo intanto A incollare Il unicorno No In un video Ok Hai detto che volevi Un unicorno Andiamo a incollarlo bene Ora prendete Dei pezzettini Di cartoncino A quadrattini Rettangolare Fate Dei fili Di cartoncino E li tagliate E poi Fatele 8 pezzettini Adesso vi dico Ok Allora Adesso prendiamo Un altro pezzo Di stoffa Io l'ho presa Che fa E andiamo a prendere La misura Da qua A qua Diciamo No E no Non è la soffetta Deve essere un po' più grande Perché deve fare La tenda No E andiamo Tieni Alessia E mia Aspetta E mia Non è vero Vabbè Alessia E andiamo A dividerlo in due E tagliarla Ma io non lo so Non si può fare un video Ok Momento scleroditiva Perché Ho diviso in due le stoffe Ora Prendiamo Il bastoncino Di barbecue Amm E Dello spedino Barbecue Spedino Abbasso lo schermo E vi faccio vedere Ok Mettiamo questi di qua Andiamo a Mettere Vedete Vabbè Sembra uguale Vabbè Non è che cambia Anzi Certo Cambia Chi Andiamo a Girarli Come volete voi Insomma E Dobbiamo Incollarli Però non incollarli A questo Perché dobbiamo fare Lo dobbiamo fare scorrere A tipo tenda Quindi andiamo a Prendere E incollare Qua Distante Ok Andiamo un'altra colla Mamma mia Stanno finendo le colle E andiamo Proseguiamo A incollare Così No Così Tutto Così Vedete che Scorre Andiamo avanti Incollare Così Tutto così Ok Allora Siccome che Era Era Troppo corto Ne ho tagliati Due insieme Ne ho incollati Insomma Però dovete Prendere voi La vostra misura Del vostro cartone No E Guardate Vedete che Sono scorrevoli Comunque Adesso Rimane così Perché Devo andarlo A incollare Bene All and Adesso Vi faccio vedere Comunque sia La misura Così Dovete Prendere La misura Da Ok Adesso Abbasso E vi faccio vedere Allora Dobbiamo creare Un piccolo Spessore Qua Quattro Stricioline Allora Allora Prendiamo la misura No Da Dovrebbe essere così Allarghiamo No Le due tendine E andiamo a incollare I friscioline Piccoline Di mezzo centimetro Di cartone Non è più complicato A spiegarlo Che a farlo Abbiamo creato Lo spessore Facciamo bene Prendiamo un po' di colla Ai bordi Che si sa che il cartone Fa il gioco Che si allarga Così rimane anche più stabile E più rigido E lasciamo asciugare bene Una volta che hai asciugato bene Andiamo a mettere Colla qua E andiamo a incollare Il nostro bastoncino Dopodiché io gli farei Un'altra C'è trovo la forbice Ma va a salzare Vedere Un altro pezzettino Piccolo e frisciolina E andiamo a incollarla Sopra Così Così è più stabile Quante le vostre le hai detto Stabile? Così non può andare Nessuna parte Ora Non ci resta che Andare a Incollare questi qua Questi qua La fine che li abbiamo fatti Ma non Possiamo mettere qua Qua Sì 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 Andiamo a incollare Stessa cosa Uno Due Due Per andare poi a metterli qua Così No? Cos'è? Poi andiamo a incollarlo Anche tra i bassa Non ce n'è L'importante è che Questo qua appoggia qua poi Andiamo a incollare questo qui E sopra andiamo tagliarne Un pezzettino Per andare A chiudere Questo Come abbiamo fatto All'interno Stessa cosa Andiamo di là Uno Quando la colla è ancora calda Andiamo a Prendere E vedete che va A salare Ok Ok Fatto ciò Papà Luca avrebbe fatto diversamente Come hai fatto a sentire? Vabbè sentire anche io E andiamo a incollare Anche questo qua Ok E anche da questa parte Andiamo a Chiuderlo Così almeno Non esce Andiamo a sigillarlo Ok Andiamo a vedere Se il teatro Oh funziona Le tente sono un po' lunghe Tagli un po' Ok il teatro Vi faccio vedere Gli entrate Aspetta ancora non è finito Ora le tente Per non lasciarle giù a penzoloni Potete fare Di colo Non posso fare la cosa qui E incolliamo Il pezzo di soffa Qua Ok Uno di qua E uno Perché è uno qui e uno qui? Tu non ti preoccupare Ok Questo lo dividiamo in due Potete fare anche più fini O potete prendere gli elastici Quello che avete in casa Ricicliamo Fini 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 La tenda si tiene così Potete metterlo anche più sopra Volendo anche un altro sopra Perché così la tenda Anche qua sopra potete metterlo Uno qua e uno qua Così si tiene bella Perché se no fa la pancia qui Quindi un pezzo qui E un pezzo sopra Così andiamo a legare anche questo E vedete Il Di qua Che si vede solo un pezzettino Poi Bisogna Tirarlo un pochettino Insomma Così Aperto Si apre E poi si tira E si Nega qua Così Può giocare I bambini possono giocare Ora Alessia Andrà a Dise A colorarlo Che bisogna Colorare Perché è bianco così Un po' Quindi andrà a scrivergli su La sua Alessia E niente Adesso Andiamo a colorare Il video sarà Lungo Chilometrico Ma vi assicuro Che a crearlo Non è come spiegarlo E molto più Molto 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 più semplice A crearlo E Vedrete che Vi divertirete A creare insieme I vostri Bibi Colori Colori Prima Sistemiamo il tutto E poi Stai facendo Cucù Alessia Cucù Andiamo in Movies NTV Stream Prime Alessia Sarà Prime Video Show Show Vediamo Alessia Teatro di Alessia Show Wow Alessia Show Ora abbiamo Anche Questi cosi qua Pezzettini Che ci sono rimasti Da precedenti lavoretti E andiamo Magari a attaccare Qualche pezzettino Che vediamo Lucico Aspetta Abbiamo fatto Guardate Qua ci sono i componenti Del teatro Sono Giorgio Francesco Sergio Alessia E Valentina Wow Qua Tutto luccicoso Guardate Guarda il teatro com'è Dai Siediti Dai Puoi anche sederti Qua devi essere un po' più qua No perché dopo è una cosa Devo fare così Nanananana C'è la mano così Abbasso la mano Deve aprire Apri prima il tendone Dai Un cordicina Forse se parti da sopra È meglio A legarlo Un'altra cordicina Ok Anche Vabbè Dai ormai Mi ha bruciato Con la golla Vabbè Dai Mettila di là Dai Però perché Verrà più carino La fatta in attesa Pesa Allora Inizia il nostro spettacolo Salve 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 E vai avanti E devo Aspetta Devo fare una cosa Devo fare in un altro modo Prende una pezzetta Vecchia E fai un piccolo C'è un po' di ciò Se mi si infiede la mano Prende il tendone Così non ti vede la mano Muda E vabbè Dobbiamo fare In un altro modo Tu Un tutorial Tu Allora Hai capito Allora Pappaluca Un altro tutorial Poi lo farà lui Come no No Dai ci sei Muoversi Gisella Dici niente Se questo video si può concludere anche qua Perché è diventato di una lunghezza assurda Ma vabbè Spiegare fare tutto passo a passo È un po' lunga come situazione Vedrò se riesco a Velocizzare qualche parte Perché se no Un'ora di video Adesso va avanti a giocare Spero che Come Momento ricreativo Con i propri bambini Visto che Siamo tutti a casa Siamo in quarantena Diciamo tutta Italia in quarantena E dobbiamo Crearci qualcosa Da fargli fare Oltre ai compiti Se sono piccoli Almeno si divertono Un po' E noi genitori Li guardiamo Un po' Ecco Niente Noi ci vediamo Al prossimo video Continuate a iscrivervi Un bacione a tutti Ciao ragazzi Oh